auto produzione plant based buona giornata a tutti questa mattina prima di andare al lavoro ho preparato un impasto per piadina monodose utilizzando il metodo diciamo americano della tazza quindi ho versato tre tipi di farina farina 00 farina di semola è una farina che mi hanno regalato tipo mista di insomma integrale farine locali poi ho aggiunto un po d'acqua e l'olio bicarbonato e aceto poi successivamente l'ho impastata in questo piatto e poi l'ho versata qui dentro tra un poco la stendo e la lascio magari riposare nuovamente e poi la farò in padella con sempre il solito coperchio che utilizzo che fa anche da forno per mia fortuna perché il forno non mi funziona al momento quello grande ho un fornetto piccolo però e sperando di avervi ispirato la piadina è un ottimo sostituto della pizza e anche del pane se vogliamo da autoproduzione plant based è tutto buona ispirazione a tutti